Luke 43 16 Allora mi è venuta un'idea diciamo carina spero vi piaccia ho aperto come vedete sei gruppi ho aperto sei gruppi su amaci la password è sempre 43 16 come nella festa dei 300 iscritti ora vi elencherò tutti i nomi dei gruppi Allora perché io da oggi aprirò un server della 1.0.0 mi raccomando per cui l'ultimo minecraft aprirò un server potranno entrare sia quelli premium che quelli non perché metterò il coso della come si dice vabbè potete entrare tutti ragazzi Allora il server sarà aperto ragazzi faccio orari più o meno perché io dico dalle 10 del mattino fino alle 10 di sera per cui prima delle 10 del mattino sarà chiuso lo troverete chiuso dopo le 10 di sera lo troverete chiuso durante tutto l'arco di queste ore sarà aperto Per cui se per dire alle 10 e un quarto 10 e 20 lo trovate chiuso può anche essere ragazzi che mi sarò svegliato tardi e non preoccupatevi riprovate dopo Oh ma sta cazzo di finestra ce l'ha con me ogni volta che registro Ok un'altra cosa se durante le che ne so mezzogiorno l'una le due qualsiasi ora durante l'arco del server che sarà aperto vi crasherà il gioco o vi dirà server chiuso Per questi motivi o mi è crashata la connessione e quindi tranquilli perché riprovate la connessione automaticamente si riprenderà ci vorranno 3 4 5 minuti O se vi crasherà sarà anche perché magari l'ho stoppato io perché ho dovuto fare degli aggiornamenti ora vi spiego il perché In questo server potete fare tutto quello che volete per cui è un mondo pulito diciamo Potete farvi dei gruppi tra di voi potete costruire insieme potete stare separati potete giocare da soli quello che volete Costruite fate tutto quel ciò che volete fateci dei video qualsiasi cosa voi vogliate ragazzi Una cosa per i rompiscatole se entreranno rompiscatole come questa finestra uguale Se entreranno rompiscatole che distruggeranno il lavoro degli altri o griffer cose simili Vi dico una cosa ragazzi se avete voglia di rompere o di distruggere fatelo con le vostre costruzioni o quelle dei vostri amici Non rompete le scatole a chi si vuole divertire per cui se dovete entrare solo per quello non c'entrate neppure Perché io ragazzi il server sarà aperto per 3 o 4 giorni Per cui se uno oggi non riesce ad entrare e mi dice eh ma bugiardo il server è chiuso Prima di chiamarmi bugiardo magari mi mandi qualche messaggio risolviamo la questione Perché il server sarà aperto 3 o 4 giorni Poi se vi comporterete bene e sarà una cosa che vi piacerà la posso anche prolungare Ma premetto la prima cazzata la prima stronzata io blocco il server lo dico subito E un'altra cosa ho bisogno di gente seria per cui gente seria gente che ha voglia Non come questa finestra che adesso non so cosa fare E me lo scriva nei commenti mi serve gente che oltre a costruire e divertirsi Lo metterò come hop per cui potrà bannare e chiccare Per cui mentre gioca potrà anche controllare chi fa lo stupido E voglio gente seria appunto perché non voglio casini come nella festa dei 300 iscritti Gente che bannava senza motivo Per cui il kicker o il ban lo voglio per un motivo serio Non per la minima stronzata E un'altra cosa ad aggiungere Credo di aver detto tutto Comunque spero abbiate capito Spero vi piaccia Questa iniziativa Se laggate ragazzi Non continuate a scrivere io laggo io laggo io laggo Ragazzi sarete in tante È normale che laggerete Io ho un computer si potente Ma la connessione non ho un 20 mega fast web Per cui è normale che laggerete Io non so lì non so proprio che cosa farci Per cui se riuscite a giocare Sono contento per voi Se vedo che è proprio impossibile giocarci Sto però al sito Il server ragazzi Io ci ho provato Per cui questo è per dimostrarvi che io ci tengo a voi E... Ragazzi divertitevi Comunque i gruppi sono Tu mi hai rotto le cosiddette scatole Dicevo i gruppi sono 4316 Luke Tutti i gruppi che dirò la password sarà sempre 4316 Poi io staccato o staccato tu Luke 4316 Non fate casino Tu o io Una prova Poi se andrà tutto bene E ci sarà altra gente che vuole entrare E i posti saranno tutti occupati Aggiungerò dei gruppi Per sapere i gruppi che aggiungerò Ragazzi veniteci a trovare sul nostro forum Che non è questo Sul nostro forum Dove abbiamo aggiunto tante cose Abbiamo aggiunto Anime manga Disegni e art Sport Videogiochi in generale Foto e video Mappe Mod Server Abbiamo aggiunto tutorial Per cui cose molto interessanti E qui c'è una chat Dixat Dove qui potrete fare tutte le domande che vorrete Saremo Tutti lieti di rispondere a qualsiasi domanda O almeno quelle che riusciamo a A rispondere Ehm Scrivo una cosa Salutate Youtube Vediamo se rispondono Ok nessuno che risponde Qua in alto ci sarà il tasto iscrivetevi Ah ok Stanno rispondendo Per cui vi salutano Vi aspettiamo i numerosi su questo forum Perché Direi che sta diventando divertente Due giorni fa eravamo a 8 iscritti Oggi ne abbiamo 53 Per cui vedo che il Che sta iniziando a piacere Per cui direi che da Luke è tutto Vi aspetto anche i numerosi sul server Il server ragazzi non so se lo apro subito O tra qualche ora Comunque voi provate Quando riuscirete ad entrare Vuol dire che il server sarà aperto Mi raccomando ragazzi Ve lo chiedo per favore Divertitevi e non fate casino Ciao a tutti